Ecco, eccoci qua! Oggi, Epifania del Signore, la Chiesa ci invita a riflettere e ad approfondire alcune figure, alcune figure di cui parla l'Evangelista Matteo. Il Vangelo di Matteo ci parla di alcuni magi, alcuni magi che, partiti da un luogo imprecisato d'Oriente, seguendo una stella, giunsero fino a Betlemme, dove nella grotta trovarono Maria e Giuseppe e il bambino Gesù adagiato in una mangiatoia, deposto potremmo dire proprio in un contenitore di fortuna. Domanda, ma chi erano questi magi? Chi erano questi personaggi? Chi fossero questi misteriosi personaggi partiti da Oriente? Noi non lo sappiamo. È difficile stabilirlo con esattezza, con precisione, poiché gli indizi che ci offrono le Sacre Scritture a loro riguardo sono pochi. Sono indizi poveri, scarni, davvero molto limitati. Tuttavia si possono avanzare delle ipotesi. Si può ipotizzare che i magi fossero dei sacerdoti, dei sacerdoti persiani, ma anche degli astronomi, degli astrologi e degli interpreti di sogni. Quindi uomini colti, dotti, sapienti, eruditi, istruiti. Uomini saggi che cercavano e studiavano la verità attraverso l'interpretazione dei sogni, l'oniromanzia, e attraverso l'osservazione dei fenomeni celesti, l'astronomia. Questi personaggi rappresentano, in un certo senso, tutti i popoli lontani dalla fede ebraica. Rappresentano tutti i popoli pagani e i primi pagani ad aver beneficiato della salvezza portata da Cristo. Ora, si usa dire che i magi erano tre, erano re, e uno di loro fosse di colore. Ma dove sta scritto? Non sta scritto nel Vangelo. Che i magi fossero re, fossero tre, e uno di loro avesse la pelle scura, non sta scritto all'interno della Bibbia. E allora, da dove hanno origine tutti questi elementi? Beh, questi elementi hanno origine dalla fantasia popolare. O meglio, si tratta di elementi aggiunti nel corso della storia per cercare di colmare il mistero fitto che appunto avvolge questi personaggi misteriosi ed enigmatici. L'appellativo regale, cioè il titolo di re che viene loro attribuito, deriva da una intuizione, un'intuizione biblica spirituale avuta nel secondo secolo da un vescovo africano di nome Tertulliano. Quest'uomo, grande difensore della fede e della dottrina cristiana, scorgeva infatti nel Salmo 72 una prefigurazione dei magi. Dice il Salmo, I re di Tarsis e delle isole porteranno offerte. I re degli arabi di Saba offriranno tributi, a lui tutti i re si prostreranno, lo serviranno tutte le nazioni. Tertulliano scorgeva così in questi re orientali, che recano doni, offerte e tributi, che si prostrano e adorano una figura dei magi. Ecco allora perché vengono chiamati e definiti re magi. Tutto parte da un'intuizione biblica. Poi vi è il numero di tre. Il numero di tre è da collegarsi ovviamente al numero di doni offerti a Gesù Bambino, oro, incenso e mirra. Ma non solo. Vi sono delle tradizioni popolari medievali che attestano questa triade anche per altre ragioni. Perché rappresentano i tre diversi continenti conosciuti in epoca medievale, Asia, Africa e Europa. Perché rappresentano le tre diverse fasi della vita umana, la giovinezza, la maturità e la vecchiaia. O anche perché rappresentano i tre diversi aspetti del tempo. Il passato, il presente, il futuro. Infine i nomi. I nomi attribuiti ai magi sono Melchiorre, Gaspare e Baldassarre. Come vengono raffigurati, come sono rappresentati questi personaggi? Beh, è sufficiente fare visita alla Basilica di Santa Polinare Nuova Ravenna per rendersene conto. Melchiorre, nell'iconografia, nella tradizione artistica, viene raffigurato come un anziano, un vecchietto, un uomo con i capelli e la barba lunga e bianca che porta in dono l'oro. L'oro è il re di tutti i metalli. L'oro allude quindi alla regalità di Gesù. Gaspare viene rappresentato invece come un giovane. Viene rappresentato comunemente glabro, senza barba, ed è colui che porta in dono l'incenso. L'incenso è una gommoresina che si usa a bruciare durante le funzioni, le celebrazioni religiose più importanti, per onorare Dio. È il simbolo proprio della preghiera che sale al cielo. Per cui l'incenso allude alla divinità di Gesù. Da ultimo vi è Baldassarre. Baldassarre viene raffigurato normalmente come un uomo di colore, con la barba lunga, nera e folta. Ed è colui che porta in dono la mirra. La mirra è quella gommoresina che gli israeliti utilizzavano in genere per preparare gli unguenti, cioè gli oli profumati con cui ungere i defunti prima della sepoltura. La mirra allude alla morte e sepoltura di Gesù, quindi alla sua umanità. Ricapitolando in sintesi, l'oro è il segno della regalità, l'incenso è il segno della divinità e la mirra è il segno dell'umanità. I magi allora con i loro doni hanno detto tutto di Gesù, proprio tutto quello che c'era da dire su di lui, che era vero re, vero Dio e vero uomo. Verità di fede che sono state poi confermate nei secoli dai grandi concili della Chiesa. E noi? Noi che siamo un po' come i magi in cammino, che cosa vogliamo portare a questo Gesù, a questo Gesù bambino? Portiamo la nostra storia, portiamo ogni giorno la nostra vita, la nostra esistenza, tutto il nostro essere, perché avvenga, come sottolinea la liturgia, uno scambio mirabile fra la nostra povertà e la sua ricchezza. Portiamo quotidianamente i nostri cuori, le nostre menti, i nostri occhi, i nostri orecchi, i nostri pensieri, tutto di noi e lasciamoci riempire totalmente di lui, lui che è la via, la verità e la vita, lui che vuole essere la nostra forza, lui che vuole essere soprattutto in questo momento complesso e difficile della storia, la nostra gioia. Ecco, portiamo tutto di noi al Signore Gesù e il Signore Gesù senz'altro ci ricambierà con i suoi doni, che sono doni che vengono dall'alto e che non deludono mai il cuore dell'uomo. Pace e bene.